Questo è un video spacchettamento di un giveaway che ho vinto qui su YouTube precisamente dal canale Kiraki, poi magari appunto ve lo linko qua sotto questo canale oppure magari ve lo metto nella i qua in alto è un canale di una ragazza molto molto carina, fa varie tipologie di video tra cui appunto anche spacchettamenti di brochet, fa dei video trucco dove si trucca, fa varie tipologie di video ecco anche per quanto riguardano appunto makeup quindi io vi consiglio di andarla a vedere se appunto vi piacciono queste tipologie di video io appunto vi consiglio perché è una ragazza molto spontanea semplice molto molto carina molto una bella ragazza molto bella e quindi niente vi invito ad andare a vedere il suo canale oggi appunto vi farò vedere quello che ho ricevuto dal giveaway che ho vinto appunto sul suo canale sono andato a ritirarlo imposta questo è il pacchettone non ve lo faccio vedere da perché ci sono appunto i dati diciamo gli indirizzi e vi faccio vedere che cosa pesco allora come prima cosa io non mi ricordavo più cosa c'era perché appunto avevo visto il video di quando lei faceva vedere che cosa metteva in bagno nel giveaway quindi io poi ho scritto sotto ho fatto quello che bisognava fare per partecipare e nulla poi sono passate quelle settimane io sinceramente non mi ricordavo più appunto il contenuto del pacco del giveaway allora all'interno troviamo questa pochettina qua questa borsettina qua che fa parte di un set natalizio di Yves Rocher e all'interno infatti mi ricordavo che ci fossero qualche ci fosse qualche prodottino di Yves Rocher e io sono contentissima allora all'interno troviamo questo gambe leggere già è fresco gambe leggere radici di ficaria tutti i tipi di pelle senza olio minerale senza colorante senza parabeni aiuto scusate se non urlo troppo ma ho il bambino che sta dormendo quindi spero voi mi sentiate ed è questo qua so che questo è un ottimo ottimo prodotto io ancora non l'ho provato infatti ero molto curiosa di provarlo poi questo gel detergente alla camomilla pur camilla molto delicato questo qua e poi c'è un latte idratante 3 in 1 almonoi buonissima profumazione poi troviamo balsamo labbra al carité questi balsami labbra qua di Yves Rocher sono buonissimi io adesso sto utilizzando quello al cocco quindi appena mi terminerà quello metterò in utilizzo subito questo poi c'è una cremina mani che anche queste sono molto buone come creme mani questa qui è quella al cocco buonissima è una delle mie profumazioni preferite e adesso ho in borsa quella all'argan terminata quella ovviamente inizierò questa e la profumazione mamma ragazzi comunque già la apro tanto poi la utilizzerò quindi mamma sono molto 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 sono idratanti cioè queste creme sono molto idratanti buonissime mamma che profumo di cocco buonissimo poi troviamo un bigliettino che è stata veramente veramente carinissima molto molto carina dopo lo leggo il mattino con calma e questa palettina dovrebbe essere vediamo un attimo che ma perché c'è lo scotch intelligente maria c'è lo scotchettino qua vabbè c'è questa palettina che ha dei colori molto 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 carini e colori che comunque io utilizzo perché io verso questo periodo qua natalizio così mi piace anche utilizzare il verde sugli occhi bellissimo soprattutto il verde scuro ovviamente qua c'è anche un verde chiaro però credo che si riesca a utilizzare benissimo oddio speriamo che non c'è vediamo c'è riflesso spero voi vediate qualcosa volevo aprirla però ci passa troppo tempo vediamo se riesco un attimo ce l'ho fatta allora prima di tutto non vi ho detto neanche poi la marca cioè veramente allora la marca è the color workshop devo dire la verità non l'ho mai sentita come marca non ho mai provato assolutamente niente quindi comunque sono contenta perché almeno provo un marchio nuovo non l'ho mai sentito non so neanche dove si reperisca questo marchio anzi magari sicuramente Chirachi Chiara si chiama la ragazza vedrà questo video magari rispondi sotto così se qualche ragazza è interessata a questi prodotti perché poi ci sono altri prodottini se sono interessata a questo marchio magari sa poi dove riferirlo allora all'interno c'è anche un piccolo specchiettino questa è piccolina questa palettina qui è ottima anche secondo me da portare in viaggio in giro da qualche parte questi questi sono i colori arrivo mi sa che è arrivato il corriere rieccomi perdonatemi poi ha suonato il corriere ovviamente scusate sistemo l'inquadratura il corriere suonando il campanello ha svegliato il bimbo e quindi ok ora è presente anche lui speriamo non mi faccia continuare questo video comunque vi stavo facendo vedere questa palettina se con le luci qualcosa si capisce aiuto c'è un bronzo però con le luci poi c'è questo qui che è un rosato con dentro dei riflessi dorati un verde scuro con dei riflessi no dei brillantini questo verde bello riflessante cioè deve essere bello lucido questo un verdino chiaro con dei brillantini e uno opaco questo qua perdonatemi ma ok dai così abbastanza si vede abbastanza bene ok poi troviamo dentro mi ha messo anche carinissima due quattro cinque cataloghi di natale questi tipi di brochet che fanno sempre 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 comodo e poi questa pochettina qua questa pochettina qua che fa sempre parte di un set natalizio appunto di i brochet all'interno ci sono tutti questi bei prodotti che adesso non vogliamo vedere allora troviamo questo smalto color sul bronzo con dei brillantini fatto così spero che con le luci si veda qualcosa sempre della marca the color workshop ok io vabbè adesso sto ho il gel sulle unghie quindi questi comunque non li apro perché poi è complicato se vanno a male ecco quando sarà il momento poi poi troviamo un rosso con anche questo dei riflessi io poi a a descrivere i colori non sono molto brava eh poi troviamo questo bellissimo qua questo lilla che dalla telecamera sembra più freddo invece un pochino più caldo poi poi scusate mi do la borsettina bimbo così ok e poi troviamo questo blu sempre con dei riflessi molto bello anche questo poi troviamo dei pennellini questi qua non c'è marca sicuro che ci hanno fatto magari qualche set viaggio questi qua questo per le sopracciglia poi troviamo questo qua piccolino magari per appunto per i rossetti per le labbra questo piatto così che un pennello questa tipologia così piatto a setole belle strette così non ce l'ho e poi quest'altro pennellino che questi comunque anche in borsetta fanno comodo perché infatti sono piccolini e non occupano tanto spazio poi abbiamo tre matite allora una occhi fantastico perché infatti ne avevo bisogno la nera questa qua nera sempre della marca the color workshop questa qua secondo me deve essere anche bella bella scrivente anzi la provo tanto questa la utilizzo si scrive molto molto bene anche molto morbida poi abbiamo questi due che anche queste qui sicuramente le andrò a utilizzare sempre della stessa marca sono due matite labbra allora proviamole molto bella questa molto molto bella questa qua e poi quest'altra che è più scura bellissima è un vinaccia questo qua molto molto belle queste matite qua sicuramente le utilizzerò e sono molto morbide anche queste poi abbiamo fine due rossettini abbiamo questo qua oddio vediamo se riesco a farlo vedere sempre della stessa si giusto della stessa marca però c'è una luce bruttissima speriamo che sia capito qualcosa dei colori questo qui che è un rosso che vira all'aranciato facciamo il allora io ogni tanto metto dei rossi ma devono essere sotto tono freddo perché se sono sotto tono giallo sotto tono un po' caldo non mi piace non mi stanno bene questo è aranciato quindi questo qui non so se riuscirò a utilizzarlo perché non è un colore che mi sta bene ecco purtroppo questo qui è molto molto aranciato però è bello e infine quest'altro qui ci sono anche numeri vabbè fai niente tanto non ci interessano i numeri questo bellissimo questo è molto bello questo qui si è un colore che comunque utilizzo è un fragola color fragola questo qua spero si sia capito qualcosa con questo molto molto non sono rossetti matt sono molto sono cremosi però comunque io utilizzo tanto i matt ma ogni tanto magari quando ho proprio le labbra secche secche vado ad utilizzare magari questi qua cremosi ogni tanto comunque li utilizzo e nulla questo è tutto quello che ho avvinto questo qui comunque è molto bello questo colore qua di rossetto è un rosa fragola molto molto bello questo è tutto quello che ho vinto dal giveaway io ringrazio ancora Chiara per il bigliettino perché è stata molto carina e non ti preoccupare che continuerò a farti compagnia in questo percorso non preoccuparti e tu falla a me ovviamente nulla io vi saluto ci vediamo al prossimo video ci sono un po' di video in ballo che devo registrare un video sono stata stamattina da Tiger un altro video che devo registrare sugli acquisti che ho fatto stamattina sempre da Kiko poi mi è arrivato una diciamo non è proprio una collaborazione però è un sito che mi ha chiesto se io avevo voglia di prendere un loro prodotto per poi fare una recensione qua su youtube e non vi svelo niente poi ci sarà anche questo video devo fare il video sul kakebo e devo fare il video per come io gestisco gli ordini i brochets per come mi organizzo come ho catalogato tutti i campioncini quindi veramente devo fare tutti questi video tantissimi quindi mi raccomando iscrivetevi cliccate sulla campanellina così rimanete aggiornati quando magari pubblico un video vi arriva la notifica se vi va ovviamente quindi mettete un like soprattutto a questo video andate a vedere il canale di Chiara che è molto interessante e nulla ci vediamo al prossimo video grazie mille un bacione ai nuovi iscritti e ai vecchi iscritti ciao